Questo è l'inizio. Dobbiamo uscire di qui alla sveglia. Ci risiamo! Riparati dietro la corazza! Aggrappati! Grazie al cielo non avevano un carrello, altrimenti ci avrebbero preso in questa galleria. Cazzo! Una volta c'era... hanno fatto saltare tutto! A sinistra! Aggrappati! 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 Il deposito! Ne ho sentito tanto parlare! Finalmente lo vedo! Non salis. Uccitili, altrimenti non usciremo mai. Non salis. 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 Non salis.